Il centro dell'inverno Piaggio Cepollaro conclude la sua trilogia delle qualità che si rivela ad uno sguardo retrospettivo come un'unica catena anaforica che tiene assieme in una trasmissione continua le manifestazioni di questo corpo soggetto descritto in terza persona ma nello stesso tempo singolare presenza e animatrice dei diversi dell'intera opera un corpo, un punto di vista incarnato che diventa momento di un fluire, di un scorrere, di un fluire in comune come scrive appunto Piaggio Cepollaro che in cui appunto i corpi singolari si collocano in un fascio, un fascio di luce ad altri corpi e le teste si annodano con onde invisibili. L'esperienza della rete che era alle spalle delle precedenti ante della trilogia qui ritorna ma nello stesso tempo si allarga, si dirama nel dare forma a questo corpo presenza che è appunto un corpo mente, una body mind, è l'istanza di un pensiero incorporato che secerne grumi di pensiero che carnalmente individuato è anche insieme esposto alle contingenze degli eventi che è insieme singolare e plurale in quanto nel suo individuarsi si apre continuamente all'incontro con l'altro si sveglia anche nei momenti onirici nel sonno dell'altro, si fonde con l'altro è un corpo mente che è oggetto ma insieme soggetto di una piccola scienza dei movimenti una sorta di piccolo trattato spinoziano che ha come protagonista questa fisica incorporata questa scrittura fisica ed è un corpo che vive una sua dimensione di sovranità una sovranità che non è la sovranità politica, non è la sovranità della storia, del potere e del dominio ma è piuttosto la sovranità in cui il corpo cerca e trova la sua sovranità nell'occhio che senza storia ricorda intero l'accaduto è nuovo, è la sovranità dell'occhio senza storia che scopre di abitare in una dimensione, in un tempo immemorabile appunto in cui è sciolto dalla trama, è spogliato dalla configurazione del tempo storico e in questo può incontrare il nuovo Versi nuovi era il titolo di un'opera di transizione che portava verso questa trilogia e la questione del nuovo a mio avviso rimane sottostante anche al centro dell'inverno ed è un nuovo che si apre, si squaderna in quello che già nella prima parte del libro è chiamato il collasso della storia si squaderna cioè in una dimensione post-storica che pone in atto una sorta di sospensione, una epochè che consente di prendere le distanze da quella impalcatura del tempo lineare e progressivo che dà forma alla finzione centrale delle nostre vite e della nostra modernità la distanza dalla storia è piuttosto uno strappo che questo corpo in tempo immemorabile in questo strappo l'esistenza, dice Cepollaro, in questa sospensione guardata tutta ad un fiato non c'è trama né storia e questo sguardo ad un'esistenza sovrana denudata ma non nel senso di una mera nuda vita biologica ma nel senso di una esposizione ad un contatto anche sovrastorico che al centro dell'inverno si muove è ciò che possiamo chiamare anche la natura che viene dopo è il tema del contatto, del paesaggio non chiamiamolo natura ma, come scrive Cepollaro, non è la natura che cerca ma l'assenza silenziosa dell'umano questa assenza silenziosa dell'umano questo è il darsi di un vortice cosmico della Serbia che si addensa ma anche è la scabra superficie della terra in alcuni dei versi più significativi tutto il peso e tutto il tempo si rapprendono nel sentire sotto la pianta la scabra superficie della terra in questo contatto scabro con un elemento primario con qualche cosa che si manifesta nella sua novità al di fuori della trama storica trova, credo, questa ultima anta della trilogia la sua nota più peculiare e forse il tema appunto inedito come possiamo sentire anche da quelli che mi sembrano i versi forse tra i più belli del libro dove si dice che il corpo al centro della primavera si ritrova al centro del suo paesaggio alberi del parco, fontana e luce sono le tracce della vita felice questo sole ripara dalla finzione dei discorsi cresciuti su se stessi nei secoli questo sole, queste quasi nozze nel senso di Camus queste nozze con la solarità e con gli elementi staccati degli alberi del parco fontana e luce in questa enumerazione slegata di un paesaggio che è il nuovo centro è la nuova centratura del corpo fuoriuscito dalla storia ecco, a questo livello, credo, si svolge al centro dell'inverno attraversando differenti stagioni e in modo poi forse non troppo paradossale è anche vero che proprio questo richiamo ad una dimensione fisico naturale fa da reagente per quella che è nella trilogia delle qualità l'anta più politica il libro nel quale Cepollaro trova un linguaggio per dire la barbarie, la rapina del proprio tempo la nuova dizione del dominio che proprio appunto attraverso quella capacità di bellezza nel cuore di un'eterna barbarie può essere disvelato è il tema, il leitmotiv della, soprattutto dell'ultima sezione del corpo al margine del crollo della speranza d'occidente che è il verso incipitario di alcuni componimenti appunto dove il declino, il consumarsi di una certa modernità occidentale osservata con la coda dell'occhio consente, appunto osservata attraverso la prospettiva fisico-corporale che consente di osservare da un lato il prodursi, il generarsi di nuove stirpi del dominio ma insieme anche appunto di salvaguardare una dimensione che non è intatta ma che comunque è consapevole di quello scarto ma anche insieme di quella indifferenziazione tra natura e storia all'interno della quale l'espressione poetica trova una sua centro irradiante è infine proprio questo chiasmo tra natura e storia tra barbarie e elemento primario che articola anche quel rinvio al futuro che troviamo appunto nei versi finali della trilogia fuori del tempo, in un altro tempo, ai margini del futuro oltre la speranza dell'occidente, dell'occidente dato ma al suo crollo non si fa debole la bellezza del mattino e il mare la bellezza del mattino e il mare appunto come fuoriuscita del tempo ma insieme appunto capacità di dire la distorsione del tempo presente e apre ad un futuro non definibile che appunto se in certa misura richiama il tempo apocalittico è anche una voce dell'immaginazione il corpo sa che il futuro è immaginazione poco tenuta a freno e ancora scrive Cepollaro il corpo ai margini del crollo destina le sue parole ai margini del futuro sul margine dell'occidente, sul margine di questa storia in cui si viene a collocare il soggetto così riposizionato è anche visibile, immaginabile, sognabile una futurità del tempo che sia differente che sia appunto consegnata almeno alle generazioni a venire ed è in questo senso nella disperazione di un tempo che frana insieme anche una luce di speranza che appunto sebbene indeterminata che su cui si chiude il libro alla ricerca di quel virus benefico che possa appunto sciogliere il sortilegio del destino e appunto renda, come scrive Cepollaro il virus benefico che renda intellerabile il comando spingendo corpi inerti a prodigiosi moti sono questi prodigiosi moti che la piccola scienza del trattato delle qualità rinnova al nostro sguardo grazie a tutti